Dal porto di Maiori, in attesa della imbarcazione che ne opererà il dragaggio, le boe gialle delimitano la zona non praticabile per le imbarcazioni, anche di piccolo pescaggio, la ditta appaltante e i lavori di appalto sono stati già affidati e consegnati, la ditta esecutrice sarà la sub-service di Sorrento, ditta individuale, con sede in via Tigliana e in attesa dell'inizio dei lavori aspettiamo.